Le arti sonore si compongono di musica, quella che definiscono colta, e tutti gli altri mondi, quindi musica leggera, musica elettronica, musica sperimentale, musica lirica. Io in particolare provengo da un background di radiofonico e di produzione, per cui ho cercato di portare il mondo che conoscevo, che è appunto quello più della musica elettronica, musica leggera, e tutte le dinamiche di quel tipo di arti. E traghettarlo all'interno di Casa degli Artisti, dove invece noi come direttivo siamo composti da persone e da professionalità molto diverse tra di loro, ognuna con una propria competenza specifica nel mondo di una disciplina artistica, dove hanno sviluppato delle conoscenze sul mondo dell'arte specialmente contemporaneamente. Ho appreso il mondo dell'arte contemporanea, proprio stando insieme a questo direttivo, insieme a questi soci, e ho pensato che queste pratiche potessero essere trasferite al mondo della musica leggera, che invece vive di un mondo completamente diverso. E quindi di ancorare il mondo della musica leggera al mondo dell'arte contemporanea, qualificandola e posizionandola, perché di fatto la musica leggera è arte, esattamente come tutte le arti. Questa è stata l'idea principale, quindi trasferire una serie di best practice, chiamiamole così, di quel mondo, tra cui l'open studio, lo studio visit, un percorso, chiamiamolo, io lo definirei di accelerazione, un processo di valorizzazione del lavoro di un artista, tipico dell'arte contemporanea, portarlo appunto nel mondo della musica leggera. E quindi permettere a un musicista o una band o un gruppo di venire qua a fare una residenza per un certo periodo di tempo e fare quelle che si definiscono le restituzioni, relazionarsi con il pubblico, contaminarsi con altre discipline, insomma tutte queste pratiche qui. Il concetto di residenza artistica in generale è un momento, per usare le parole musicali, e compositivo, è un momento di ricerca, di sperimentazione, è un momento in cui si è liberi di pensare, fare, senza avere dei vincoli di, chiamiamoli di mercato o altro tipo di vincoli. È un momento in cui ci si libera di tutto e si ha la possibilità di concentrarsi per un certo periodo di tempo all'interno di uno spazio dedicato. e nel mondo della musica significa appunto avere la possibilità di creare, ma anche registrare, di contaminarsi, di invitare quelli che non avresti mai invitato, di esplorare, di ricercare. Quindi un percorso di totale libertà artistica, compositiva e creativa. Questa è una residenza di artisti di tante discipline, su tre piani. la possibilità che hanno gli artisti è di incontrare altri artisti, che hanno altre esperienze, altre conoscenze, e parlandosi tra di loro nascono già naturalmente delle contaminazioni. Quindi io ho fatto questo, io ho fatto questo, ah ma anch'io ho fatto questo, potresti aiutarmi in questo, e da lì nascono delle collaborazioni. Ce ne sono state alcune molto interessanti. C'è da dire che queste contaminazioni nascono anche grazie al fatto che gli artisti qua si sentono veramente a casa. È un momento in cui si chiudono dentro delle mura, ma insieme ad altri artisti, in un luogo pubblico, aperto quindi, ma di fatto protetto. Però si incontrano in bagno, si incontrano a prendere un caffè, passano uno nella teglia dell'altro, cioè si creano quelle dinamiche classiche da, diciamo, casa cogestita, o una sorta di convivenza che naturalmente porta alla contaminazione, alla creazione di nuovi progetti. Noi chiaramente quando abbiamo studiato e disegnato Casa degli Artisti per come doveva essere, ci siamo ispirati a diverse esperienze, da altre residenze internazionali, ma anche a un modello storico come la Factory, cioè il posto dove, il centro di produzione artistica, del multidisciplinare, che si rivolge anche all'esterno, alla committenza per trovare, diciamo, degli sbocchi commerciali e di lavoro. Oggi non c'è più la chiesa, oggi, diciamo, le istituzioni non sovvenzionano e aiutano poco il mondo dell'arte, sono arrivati i brand, i brand che si vogliono posizionare nel mondo dell'arte, normalmente oggi hanno solo un canale, quello delle agenzie di pubblicità, dove è un processo creativo che trova l'artista, ecco. Noi abbiamo pensato che qua il brand possa trovare invece un percorso molto qualificato per accreditarsi nel mondo dell'arte attraverso un processo narrativo, dalla qualificazione e la selezione degli artisti tramite un open call, tramite l'inserimento di una giuria qualificata, fino al percorso in residenza, quindi un periodo anche lungo di uno, due, tre mesi in cui un artista può lavorare, e offrire al brand la visione continua di quello che sta facendo, il suo lavoro, e permettere al brand di offrirlo anche ai suoi clienti, ai suoi stakeholder, quindi di venire dentro l'atelier, fare quello che si chiama studio visit, fino all'open studio, cioè il momento di restituzione al pubblico, fino alla messa in opera dell'artista, che può essere in qualunque punto. Questo, secondo noi, è un percorso di altissimo valore aggiunto, che può connettere il mondo degli artisti e il mondo dei brand in una maniera molto efficace. Il mio signore di cassetto è legato alla musica, io vengo da un passato musicale, tanti anni fa lavoravo nell'ambito musicale, ma ho dovuto abbandonarlo per motivi, diciamo, economici, già era in decadimento il mercato musicale, e l'industria musicale. Adesso ci sono tornato con grande fortuna, perché è la mia grande passione, ma ho visto che la situazione non è migliorata, tra una Spotify che paga troppo poco, troppi live uno insieme all'altro, insomma, i musicisti, soprattutto quelli emergenti, fanno molta fatica. Il mio vero sogno nel cassetto qui è permettergli di avere diciamo uno sbocco di mercato e di costruire un progetto che diventi sostenibile per loro anche da un punto di vista economico.